bene a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono io il vostro per il peggiore e oggi siamo qui nella terza puntata del mini pack opening intanto vi volevo augurare un buon 2015 anche perchè io non ci sono stato e non ho potuto farvi gli auguri però ho messo come titolo buon 2015 con punti esclamativi e una foto dei brindisi e queste cose qua ok questo mini pack opening ne apriremo sempre uno dai 5000 intanto ragazzi guardare quanti i crediti poi ragazzi ho cambiato la tv mi sono preso una smart tv nuova ok pacchetto oro 5000 messi portamessi 5000 crediti sbustiamo messi ooooooooo amo ma se giucchetta speroni parecchi contratti e poi la divisa della colombia ospiti ai palloni argento vabbè meglio delle solite schifezze va bene ragazzi il video di oggi finisce qui spero che vi sia piaciuto e noi ci vedremo ad un prossimo video bella ragazzi per il video di oggi ci vediamo